Il giorno prima del discorso del Presidente Conte noi avevamo pubblicato uno studio che denunciava appunto l'assenza di offerta di asili nido e qualificasse quella come una delle grandi emergenze del Paese perché ci dice della disuguaglianza e dell'incapacità della politica di guardare al presente ma soprattutto con uno sguardo verso il futuro perché occuparsi dei bambini significa occuparsi intanto di sostenere le famiglie ma anche di affrontare la grande questione demografica che insieme alla grande questione climatica sono le sfide per il futuro. Sentire ovviamente dei messaggi che vanno in questa direzione è sicuramente un passo in avanti almeno nell'assumere il tema della disuguaglianza sociale, del sostegno al reddito delle famiglie come due priorità dell'agenda politica. Quindi lo rileviamo come un passo importante. Mi permetto solo di dire che nell'intervista del Ministro oggi sul Repubblica l'attenzione è chiaramente al sostegno alle rette degli asili nido che è sicuramente un primo passo importante ma quando ad un milione di bambini viene negato nel nostro Paese il diritto ad avere un'offerta educativa vuol dire che non basta semplicemente intervenire sulle rette c'è bisogno di intervenire sull'offerta. Torniamo quindi alla grande emergenza dell'occupazione nel settore pubblico mancano 20.000 docenti nella fascia 03 mancano soprattutto le strutture e mancano con una differenziazione molto forte tra nord e sud e qui torna il grande tema dell'unità del Paese di una politica che sappia affrontare anche il tema dell'autonomia con una regolazione che però non preveda un aumento della disparità e delle differenziazioni territoriali. Per dirla in sintesi ci sono alcuni messaggi che fanno intravedere una svolta di politica economica il tema è sicuramente far ripartire gli investimenti con un'attenzione sociale bisogna vedere però come si concretizzano i misure che abbiano attenzione reale a intervenire nelle questioni fondamentali che riguardano la vita delle persone. Perché per 20 anni abbiamo sentito politiche soprattutto improntate dalla cultura neoliberista per le quali salute e sicurezza erano un freno allo sviluppo della libera impresa abbiamo distrutto sostanzialmente il testo unico su salute e sicurezza abbiamo smembrato l'attività di vigilanza indebolendo sia la vigilanza ispettiva dell'Inps sia la vigilanza ispettiva dell'istituto che si occupa appunto di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro abbiamo disinvestito nella formazione oggi la nostra disperazione è che probabilmente quell'incidente di Pavia si poteva evitare semplicemente se quei lavoratori fossero stati correttamente formati e non c'entra semplicemente il fatto che non portassero le mascherine ma probabilmente dovevano essere consapevoli di non poter intervenire in quella situazione la formazione per la sicurezza dovrebbe essere un diritto fondamentale riconosciuto a tutte le lavoratrici e lavoratori oggi l'esposizione a rischio muta a seconda di quanto velocemente cambia l'organizzazione del lavoro i lavoratori sono esposti a rischi imprevedibili e la formazione permanente dovrebbe essere uno strumento fondamentale che entra nel corredo dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori perché non è mai l'emergenza del paese? perché la sicurezza purtroppo come tutti i diritti dei lavoratori vengono interpretati come costi le aziende le ritengono degli oneri inutili sottrazione di tempo lavorabile per i lavoratori quello della formazione e dei costi da sostenere anche questo, mi permetto di dire, è parzialmente falso lo dice anche oggi il Presidente dell'INAIL in un'intervista le risorse ci sono occorre una volontà politica però attorno a quello che dicevo prima la vera svolta nel segnare il cambiamento anche dell'atteggiamento che il governo ha nelle questioni ad esempio che riguardano il lavoro è come si riaffronta la grande questione di ricostruire diritti nel lavoro di cui la sicurezza è un capitolo importantissimo mi aspetto in termini di discontinuità che non ci sia semplicemente la convocazione di un tavolo nazionale che si occupi di aggiornare tutti gli strumenti che oggi abbiamo per contrastare questo bollettino tremendo delle morti sul lavoro ma mi aspetto soprattutto che ci sia un appello alla responsabilità delle imprese pubbliche e private nel cambiare atteggiamento nei confronti della sicurezza dei lavoratori noi abbiamo bisogno di più ispettori ma soprattutto abbiamo bisogno di coordinamento dell'attività di vigilanza è stata fatta un'importantissima riforma costituendo un istituto unico che si doveva occupare dell'attività di vigilanza smembrando l'attività di vigilanza di IMSI, INAIL e chiaramente anche non coordinandola con quella che fanno le aziende sanitarie sul territorio anziché occuparci del fatto che magari quella riforma non andava bene e comunque di verificare che abbiamo una carenza di ispettori muoiono tre lavoratori al giorno ma quante aziende sottoposte a ispezione si dimostrano irregolari ci sono dei tassi altissimi cioè superiamo il 75% delle imprese che vengono controllate e dimostrano di avere delle irregolarità allora a me fa sorridere quando dicono è un problema di burocrazia, c'è eccessiva burocrazia la burocrazia è un fatto positivo o negativo dipende a disposizione di che cosa la mettiamo fare un riscontro amministrativo oltre che con un'ispezione di persona dell'operatore che va in azienda e controlla se c'è regolarità nel rispetto dei contratti se l'azienda versa i contributi se si rispettano le norme sulla sicurezza del lavoro non può essere tradotto come un'operazione burocratica che appesantisce l'impresa in un paese normale le imprese chiedono le ispezioni per dimostrare di essere regolari nel nostro paese la cultura degli imprenditori è quella di scongiurare un'attività qualsiasi di controllo del soggetto pubblico perché sanno comunque di avere delle irregolarità bisogna mettersi d'accordo se vogliamo sicurezza e qualità soprattutto se vogliamo aumentare gli investimenti verso le imprese bisogna che le imprese dimostrino che ci si può fidare di loro C'è bisogno di riaprire il cantiere sulla Fornero e di ripristinare la flessibilità in uscita ora io rispetto tutto intanto i dati sul quota 100 ci dicono che è più alta la decisione del privato che del pubblico ma probabilmente perché parliamo di numeri molto diversi i dipendenti pubblici sono 3 milioni i lavoratori dipendenti sono 22 milioni quindi c'è un'incidenza se ci fossero più che vanno dal pubblico in quota 100 sarebbe troppo vuol dire che se ne vanno tutti però i lavori non sono tutti uguali io faccio fatica ho molto rispetto chiaramente per la professionalità di Nunza Penelope però dire a un infermiere o una maestra d'asilo a 61 anni a 62 anni che non fa la differenza per sé e anche per l'utenza cioè per i soggetti che prende in cura andare in pensione due anni prima o due anni dopo direi che non è proprio la stessa cosa di dirlo ad un amministrativo che magari può decidere di fare ancora per un altro anno un pezzo della sua attività i lavori non sono tutti uguali però c'è un tema c'è un tema che la legge Fornero ha creato delle pesanti iniquità l'abbiamo visto con quello che ha comportato rispondere al dramma degli esodati lo stiamo vedendo con quota 100 che è stato l'anticipo di una prima misura che ha iniziato a riportare un po' di equità nel sistema ricordiamo che non è la riforma della riforma Fornero e quota 100 è una finestra lunga tre anni nella piattaforma delle organizzazioni sindacali il tema è rimettere mano al cantiere della Fornero anche perché dico che c'è un problema enorme di cui il Paese si deve occupare che è la pensione di garanzia per i giovani ma soprattutto per i lavoratori discontinui non parliamo solo di giovani parliamo di lavoratori che oggi hanno 20, 21, 22 anni di carriera lavorativa discontinua e che probabilmente hanno oggi un reddito non sufficiente a garantire un'esistenza dignitosa e non avranno neanche una pensione dignitosa quello è un problema di equità si risolve in un anno? non si risolve in un anno ma bisogna iniziare ad affrontare il tema mi permetto semplicemente di dire una cosa rispetto a dove si trovano le risorse rispetto ad una proposta che rinizia a far decollare investimenti pubblici diretti verso i settori del sostegno sociale la scuola, la sanità le assunzioni nel pubblico impiego ora io capisco che c'è un certo scetticismo e che ci sono commentatori che dicono ma se si ritira fuori il tema dell'evasione fiscale della lotta alla corruzione è talmente imponderabile come strategia che chiaramente è poco concreta intanto visto che il governo precedente sosteneva di trovare le risorse per finanziare la flat tax immagino leggeremo quello che c'è scritto nella legge di bilancio ma che delle risorse si possano movimentare anche per tagliare il cuneo fiscale sui redditi da lavoro e da pensione secondo solo la tracciabilità attraverso la fatturazione elettronica fatta dallo scorso governo aveva portato 3 miliardi di euro in più di gettito fiscale quindi immagino che un po' di equità nella pressione fiscale facciamo pagare un po' di più a chi ha di più e un po' di meno a chi ha di meno possa essere un primo punto di riequilibrio e poi il tema dell'evasione fiscale a partire dalla tracciabilità del contante all'implementazione della fatturazione elettronica possono essere intanto due capitoli che mettiamo a disposizione di un piano vero di sostegno alla salute e all'assistenza sociale per i cittadini Noi abbiamo raccolto 4 milioni di firme a sostegno di un nuovo statuto delle lavoratrici e dei lavoratori anche perché mi permetto di dire una cosa il tema del reintegro quando si è di fronte ad un licenziamento illegittimo non vale solo per le imprese oltre a una certa soia di dipendenti nella nostra proposta visto che parliamo di nuovi lavori dobbiamo anche avere la capacità di innovare quelle che sono le regole che governano il diritto del lavoro quindi io penso che ci siano principi che vanno ripristinati sicuramente l'articolo 18 è stato un simbolo di civiltà giuridica nel lavoro che segna un momento anche di rottura sociale che si è verificato nel paese tra la politica e i lavoratori io penso che ripartire da lì per costruire nuove regole che siano in grado di tenere insieme i rider gli operai delle fabbriche i professionisti delle pubbliche amministrazioni i lavoratori che scegliono di essere indipendenti è la sfida che noi abbiamo davanti in un mondo che cambia e che ha bisogno di regole nuove che valgono per le imprese e che valgono per i lavoratori sentiamo nelle affermazioni della politica di queste ore dei titoli che sembrerebbero anche andare incontro ad alcune delle esigenze che il lavoro ha manifestato in questi anni cioè ricostruire dignità qualità e però anche un po' di incoerenza faccio solo un esempio io probabilmente sono una parte di quegli italiani che non è molto appassionata dalla discussione che si sta facendo sui sottosegretari però sono anche tra quelli che avendo un senso alto delle istituzioni difendendo la democrazia mi fa anche un po' strano che la politica attribuisca un ruolo istituzionale l'esemplificazione dell'occupazione di una poltrona soprattutto perché fino a ieri ce n'erano altri che occupavano quelle poltrone quindi dovrebbe valere un po' per tutti tanto dovremmo ritornare ad avere rispetto per la responsabilità istituzionale penso però essendo una parte di quegli italiani che ha a cuore in questo momento le priorità del paese che vorrei che il presidente Conte oltre a dire alle forze politiche fate presto nominate i sottosegretari dica anche aprite tutti quei file che sono pendenti e che rispondono alle istanze di milioni di cittadini entro il 30 settembre scadono la maggioranza delle graduatorie che noi abbiamo attive nelle pubbliche amministrazioni per iniziare a dare una risposta al turnover dell'occupazione le proroghiamo o non le proroghiamo ci sono i decreti sulle aziende in crisi esattamente ci sono i tavoli delle aziende in crisi ci sono decreti che riguardano il riordino delle professioni sanitarie entro il 31 dicembre scadono i criteri della stabilizzazione dei precari introdotti dalla Madia li proroghiamo o non li proroghiamo non c'è tanto tempo bisogna scrivere la legge di bilancio bisogna portare a termine tutto quello che c'è in pendenza dei provvedimenti del governo precedente se questo governo lo condivide se no abbiamo tempi strettissimi per cambiare rotta io spero che non solo oggi ci sia la lista dei sottosegretari ma che domani mattina partano i tavoli di confronto perché la legge di bilancio sia scritta non al chiuso di qualche stanza ma finalmente riaprendo il confronto con le parti sociali con le imprese ascoltando il paese non semplicemente facendosi influenzare dai sondaggi il tema è esattamente come quello degli asili nido se il titolo è giusto qual è lo svolgimento nel nostro paese per quanto riguarda il lavoro dipendente non esistono tabellari dei contratti differenziati perché le donne guadagnano meno perché hanno meno tempo a disposizione quindi fanno meno straordinario perché sono più soggette al part-time involontario quindi l'ora lavorata viene retribuita allo stesso modo ma fanno meno quantità di ore perché hanno meno opportunità di carriera allora io posso anche scrivere in una legge non è solo quello scusami però non è solo quello posso anche scrivere in una legge che è contro il pay gap io però devo mettere in campo una serie di misure che poi mi consentono di rendere quella legge effettiva devo dare servizi alle donne per conciliare devo contrastare il part-time involontario poi discutiamo di altro perché sulla dirigenza e sui manager dove la contrattazione è privata chiaramente lì sono le aziende che decidono di contrattare retribuzioni differenti ma lì è anche una questione di approccio culturale tra la leadership per il riconoscimento delle competenze femminili e quelle maschili quindi c'è una serie di misure anche di evoluzione rispetto alle politiche di genere anche di valorizzazione del lavoro e delle competenze delle donne che richiama un processo profondo infatti va benissimo affermare che bisogna lavorare per affermare il principio che nel nostro paese a parità di lavoro ci deve essere parità di salario mi permetto di dire non solo tra uomini e donne ma tra pubblico e privato tra lavoratori dipendenti e lavoratori indipendenti cioè che ci sia uno sforzo verso l'equità va bene che si attenzioni il tema del valore del lavoro delle donne va benissimo vogliamo capire come lo fanno è stato più facile